E lo dicevamo anche nell'altra edizione, San Giovanni Rotondo, tappa finale del tour di Vittorio Brumotti da Milano a Padre Pio, in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano FAI. Partito il 18 giugno scorso, dopo 1.600 chilometri in bici sulle strade della penisola, l'atleta ha attraversato la città e si è fermato ad abbracciare i giovani pazienti del presidio di riabilitazione motori e gli angeli di Padre Pio, polo d'eccellenza creato dai frati Cappuccini, che ha appena ricevuto il riconoscimento internazionale JCI. Sentiamo il direttore sanitario, Serena Filoni. È un riconoscimento mondiale che abbiamo sudato, abbiamo faticato. Il nostro centro adesso ha una serie di bandiere, non so se le potete vedere, siamo aperti al mondo, quindi chiunque potrà venire a riabilitarsi qui. Già lo facevano, in questo momento questo accreditamento internazionale è veramente motivo d'orgoglio per i nostri frati della provincia monastica di Sant'Angelo e Padre Pio, per il nostro consiglio di amministrazione, per l'area strategica che ha appunto pensato questo accreditamento. I bambini della fondazione si sono preparati a questo incontro con Brumotti, abbiamo preparato addirittura degli occhiali a forma di bicicletta. C'è una nostra artista, Antonella Mastro Luca, che porta avanti un laboratorio creativo e quindi siamo qui per consegnare anche questo. Brumotti ha poi una sensibilità particolare nei confronti del mondo della disabilità, mi fa ridere un po' quello che appoggia sulle macchine che sono parcheggiate nei parcheggi dedicati ad altre persone, quindi questo denota una grandissima sensibilità che noi apprezziamo. L'ospite poi ha anche raccontato la profonda devozione per il frate di Pietrelcina e il senso di tutta l'iniziativa. 1600 km, la versione 2.0, l'anno scorso abbiamo fatto da Livigno e da Grigento, quest'anno abbiamo fatto da Milano, Palazzina Piani, San Giovanni Rotondo, passando per tutti i luoghi fai, luoghi magici, abbiamo promosso il turismo lento, questa Italia da scoprire lentamente, non solo Roma, Venezia, Torino, grandi città ma anche i piccoli paesini. Per non parlare poi di San Giovanni Rotondo che sono molto legato perché ha un decennio, una storia che ha più di dieci anni, con i miei amici biker, ci siamo conosciuti, conosco il territorio, ho saltato in tutta San Giovanni Rotondo e che dire, il mio santo protettore in tutte le inchieste possibili, in tutti i miei cornicioni, in tutti i miei record, c'è sempre lui nel mio cuore, padre Pio. Io ho cercato di ricreare una sorta di cammino di Santiago, l'abbiamo fatto prima nel versante ovest e adesso nel versante est dall'Adriatico. Devo dire che quest'anno il paesaggio è stato molto più intenso, molto più bello, molto più forte, molto bello nelle Marche, nell'Umbria e poi arrivare nella mitica Puglia è stato pazzesco. Non conoscevo così bene la Puglia, l'ho circonnavigata, fantastica. Devo dire che una delle regioni più calde è stata veramente la Puglia. Ogni piazza che toccavo mi trovavo migliaia di persone come se fosse una festa nazionale, incredibile.